Siamo molto felici di vedere questo appartamento, non ci speravamo e non ci sognavamo di trovarlo così bello com'è. Due appartamenti in una piccola palazzina a Sorbolomezzani, pochi chilometri da Parma. Ora sono in rifugio di Olena, Ania, Marina e altre due mamme ucraine, 12 persone in tutto tra giovani donne e i loro bambini. Ma fino a pochi anni fa erano tra gli investimenti in pianura padana della cosca di Andrangheta, grande a Rakhri di Cutro. I mobili confiscati e l'Andrangheta che oggi hanno un valore ancora più importante per la nostra comunità, cioè accogliere le famiglie che scappano dalla guerra. Ad amministrare i beni sequestrati col maxiprocesso di Andrangheta e Emilia, l'avvocato Rosario Di Legami. Circa mezzo miliardo di euro sottratto tra Veneto, Emilia Romagna, Calabria e la cosca Grande a Rakhri. Il procedimento è stato complesso, si è giunti alla confisca definitiva. Ora un accordo tra Prefettura di Parma e Comune di Sorbolo insieme alla gara di solidarietà di tutta la comunità ha permesso di allestirli per fare sentire a casa ragazze e bambini fuggiti dalle bombe. Anche se, essendo separati con le nostre famiglie, noi qua non ci sentiamo soli. Tutto questo grazie ai cittadini di Comune di Sorbolo Mezzani.